Nella settimana dal 18 al 24 maggio si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 1.697 in particolare, e si evidenzia una diminuzione di nuovi casi, 2,5% in meno rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale, posti letto in area medica, il 16,6% in terapia intensiva, il 4,1% occupati da pazienti Covid-19. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con analisi su andamento dell'epidemia. La percentuale nell'isola di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 9,4%, in Italia la media si è fermata al 7%, a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, che è pari al 5%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari al 12,6%, 4% in più rispetto alla media nazionale, a cui bisogna però aggiungere la popolazione guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, che è pari al 10,1%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose per persone immunocompromesse è del 22%, mentre la media in Italia è del 30,5%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose, ovvero 80 ospiti delle residenze sanitarie assistite e fragili, fascia 60-79 anni, è del 4,4%, quando la media in Italia è del 14%. La popolazione tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 26,8%, in Italia la media è del 34,6%, a cui bisogna aggiungere un ulteriore 3,1%, 0,3% in meno rispetto alla media nazionale, che ha ricevuto soltanto la prima dose. Lo studio della fondazione Gimbe evidenzia infine la situazione dell'incidenza di nuovi casi ogni 100.000 abitanti nelle singole province. Nell'Agrigentino in questa situazione abbiamo avuto 341 casi, il 12,2% in meno rispetto alla settimana precedente. Questa è la situazione che riguarda invece le altre province. A Siracusa 14,7% in più rispetto alla settimana precedente, a Caltanissetta il 10,3% in meno, a Messina l'8,9% in meno, a Raguse l'14% in meno, a Catania l'1,6% in più, a Enna il 43,2% in più, a Trapani il 12,9% in meno, a Palermo lo 0,1% in più.